Vuole dire tutto e vuole dire niente. Si sa i minimi dettagli dei versicoli, si sa le date di quando hanno vissuto quei personaggi, in quali contesti storici, che lingua parlavano, che cosa mangiavano alla prima colazione. Sapevano tutto, ma non sapevano e non sanno che cosa quello può dire a me oggi. Questa dimenticanza del linguaggio simbolico è una cosa che io, certo perché come lavoro con quello, lo considero grave. Ho dei quasi parenti qua in Italia, dei bambini che ho battizzati, qualche volta ci troviamo con questi bambini che io trovo come se fossero quasi miei parenti. E uno che andava alla scuola mi diceva, no ma la professoressa, la maestra, ha detto che tutto questo di Adamo, perché lui guardava un Adamo che avevo dipinto, e lui diceva, ma questo, la maestra ha detto che tutto questo è bugia, tutto questo è falso, che non è esistito Adamo. E questo è un po' il risultato di questa nostra... E questo è anche la causa per cui noi non sappiamo più, perché non parliamo più di queste cose, perché in un certo senso ci invergogniamo di parlare, perché sembra che stiamo parlando di cose che non sono vere. Il linguaggio simbolico è più vero dell'altro. Mi spiegherò, aspetto se riesco a convincervi un po' di questo, questo potrà farvi un po' più felici, e anche mi farà felice, perché la felicità, quando contagiata, diventa più interessante. Ciò che rispondevo al mio nipotino italiano era Adamo, magari quell'Adamo di cui parlava la sua professoressa non è mai esistito, ma Adamo esiste sempre, esistirà sempre. Adamo sei tu, Adamo sei io, Adamo... Ma questa non è una risposta superficiale, è una risposta perché colui che ha scritto quel testo pensava a se stesso, lui pensava all'uomo concreto, lui stava scrivendo non per ingannare qualcuno, lui stava scrivendo per aiutare a dare un senso. E quello rispondevo al mio nipotino. La Bibbia non è un libro scritto, non un libro di storia, un libro di scienza. È un libro che ci aiuta a capire il senso della vita, a capire il senso del mio esistere, a capire il senso dei miei atteggiamenti, delle mie scelte. Mi insegna la sapienza. È un libro fatto per insegnare la sapienza. Ma come è scritto in linguaggio simbolico, se io non capisco il linguaggio simbolico, come la capisco? La capisco come un libro di storia. E quello è il nostro guaio nel momento in cui noi viviamo. Siamo in una generazione molto critica, ma allo stesso tempo ignorante. Non è che io sono meno ignorante. Io mi includo in questi e stiamo riscoprendo. Nello stesso secolo XX che ha provocato questi guai, c'è stata anche una riscoperta del linguaggio simbolico. proprio con la psicologia del profondo, primo con Freud, ma dopo di lui altri che hanno portato molto più avanti la tematica del linguaggio simbolico, come Jung e altri. Anche gli artisti come Salvador Dalì, Picasso, gli altri, hanno riscoperto la forza del simbolo. E poco a poco il linguaggio simbolico sta sendo ricoverato. Come di solito succede prima il mondo e dopo la Chiesa. Il mondo, in un certo senso, ha recuperato il linguaggio simbolico, ma per se stesso. Nel senso, come un strumento per farci mangiare la pasta che il mondo vuole che noi mangiamo, a fare, perché tutta la pubblicità, la buona pubblicità, è fatta con il linguaggio simbolico. Proprio mirato loro scelgono anche il momento in cui il bambino sta mangiando per fare una pubblicità. Perché quando noi mangiamo, nel processo di mangiare, io sono più vulnerabili perché sto sentendo piacere e quindi quello che io vedo quando sto sentendo piacere registra di più, più profondamente dentro di me. Per quelli monaci quando noi mangiamo sentiamo una lettura. Perché quello è associato al piacere di mangiare e il contenuto che entra. E quindi tutte queste cose sono state studiate e sono usate fuori della Chiesa. E dentro della Chiesa noi di solito trattiamo di rendere il più noioso possibile la trasmissione del nostro contenuto. lo facciamo della forma più noiosa più brutta proprio perché abbiamo dimenticato questa la magia il fascino la forza del simbolo. se noi riusciamo a fare qualcosa di aiutarvi a riscoprire questo è riscoprire il linguaggio simbolico esiste sempre un tempo nel primo millennio il linguaggio simbolico era il linguaggio che le persone parlavano dopo verso 1200 1300 1400 questo linguaggio simbolico comincia a essere considerato poco scientifico e il colpo finale sarà l'illuminismo 1700 in cui diranno no tutto questo è pura alienazione tutto questo è sono scemesse oscurantismo e tutto il linguaggio simbolico che è indistruttibile diventa un fiume sotterraneo e continuerà fino a oggi fino al secolo XX che si riscopre senza il linguaggio simbolico Harry Potter non sarebbe niente nessuno no Harry Potter è puro linguaggio simbolico e per quello già ho visto tantissime volte tutta la serie tutta la serie l'ho visto più di una volta perché mi piace e perché ripetere il linguaggio simbolico è anche un buon esercizio noi abbiamo abbiamo organizzato il nostro corso che in queste prime lezioni noi faremo una introduzione al linguaggio simbolico alla riscoperta del linguaggio simbolico ci sono parecchie persone che si sono dedicati a studiare il linguaggio simbolico non lo hanno inventato loro il linguaggio simbolico esiste per sé è umano e grazie a Dio grandi personaggi hanno sviluppato hanno ricercato e hanno cercato di renderlo comprensibile a noi e quindi noi useremo gli studi di queste persone per la prima distinzione che noi possiamo fare sarebbe quella di distinguere o di spiegare che cosa è un simbolo di solito nei corsi di filosofia e psicologia si parla molto di simbolo io non vorrei complicare la vostra testa con esplicazioni troppo filosofiche ci appoggeremo un po' a Sant'Agostino che il segno è una cosa che fa venire in menti qualcosa di diverso dall'immagine che viene immediatamente prodotta dai sensi e quindi il simbolo non è ancora questo il simbolo è un segno ma prima per capire che cosa è un simbolo spieghiamo che cosa è un segno i segni penso che senza luce si può andare bene penso che si può andare bene così sì quindi qualcosa che ci fa venire in menti qualcos'altro io leggevo un articolo su una rivista di archeologia che ci sono delle conchiglie preistoriche degli uomini preistorici di 350.000 anni 350.000 anni sono le reperti archeologici più antichi che sono delle conchiglie che sono state bucate in una parte e avevano delle incisioni a triangoli precisi e sono state anche utilizzate per tagliare o per fare e quindi conchiglie queste conchiglie fanno l'antropologo che scriveva diceva questo vuole dire che l'uomo comincia a diventare un uomo quando lui comincia a fare un'astrazione che quella conchiglia è una conchiglia con una madre perla con delle luci e aveva un buco per metterlo sul collo e quindi comincia a avere un senso di che una cosa rappresenta un'altra molto diversa che una cosa un oggetto è segno di qualcos'altro e quindi senza segni noi non riusciamo a comunicarci è quello che gli antropologi parlavano che a 350.000 anni gli esseri umani o i parenti nostri antenati cominciano a comunicarsi perché cominciano a usare i segni per esprimere qualcosa le parole sono segni io parlo di una cosa e non necessariamente quella cosa sta qua e tutti capiscono ci sono segni conversionali per esempio come un cellulare che suona nel nel silenzioso non c'è nessun problema potrebbe essere il mio non vi preoccupate il mio è già suonato durante la messa e quindi peggio di questo un sacerdote non può arrivare a un punto più basso della vita che aver lasciato il cellulare asceso durante la celebrazione questo è successo con me quindi per quello sono come Maria Maddalena che una volta perdonato perdono tutto i segni convenzionali vedete questi segni sono segni che tutti noi qua presenti riusciamo a capire c'è qualche segno che voi non capite qua no sono tutti molto comprensibili ma c'è uno che è un segno che rappresenta qualcosa già passata qual è? che dà la data di questa diapositiva bluetooth ancora ancora si usa 3G 3G e il 3G è trapassato adesso quando il telefonino mostra 3G non abbiamo buona connessione ma prima 3G era il massimo adesso è 4G e quindi grazie a questo questo tipo di cosa i biblisti sono riusciti a capire tanto dei testi biblici proprio per i riferimenti storici solo che il nostro tempo ha molto di più ma i segni come vedete sono segni convenzionali se io li mostrassi a delle persone 20 anni fa non esistevano una persona più anziana che non che non ha cellulare che non non entra in internet è incapace di conoscere questo è tutto bravo i segni convenzionali quindi vogliono dire che noi abbiamo una convenzione tra di noi che questo vuole dire quello ma non è universale è particolare e temporaneo invece ci sono segni naturali i segni naturali sono la caratteristica sarà sempre che sono universali uno di qualsiasi tempo di qualsiasi cultura può capirlo e quindi se l'acqua di un lago di un stagno si muove noi sappiamo che qualcosa è caduta in acqua noi non vediamo che cosa è caduta ma capiamo i suoi i suoi movimenti c'è un padre siriaco del secolo quarto quinto san giacomo di sarug e lui dice il mistero dell'incarnazione per esempio è come una pietra che cade nell'acqua il mistero stesso non si vede perché nessuno ha visto come è successo il mistero dell'incarnazione ma noi vediamo le sue conseguenze il movimento dell'acqua intorno a questo centro che non vedo più e in questo bordo circolare ondeggianti io posso chiamarlo rivestirsi dell'umanità posso chiamarlo incarnazione posso chiamarlo lui è venuto abitare fra di noi posso utilizzare un'altra immagine simbolica come ha montato la tenda in mezzo a noi sono tutti elementi simbolici perché sono tutti elementi simbolici perché non è che Cristo si è incarnato questa parola se no la prende e lui dice ognuna di queste parole simboliche che sono l'ondeggiare del mistero ognuna di queste parole prese in modo assoluto diventa un'eresia perché il mistero quello che Gesù è realizzato quello che lui è è molto di più che incarnarsi incarnarsi a prendere carni non è esattamente quello è molto di più non è rivestirsi perché i padri sirieci si piacciono molto di usare queste espressioni ma è un'espressione simbolica e loro dicono il verbo si è vestito di Adamo per rivestire Adamo di Dio e quindi è un bello gioco uno si rivesti dell'altro ma tutto questo è linguaggio simbolico il linguaggio simbolico serve come cornici per un misterio che non si vede e quindi si parte dall'acqua ma si riferisce a qualcosa altro molto superiore questo è la questione del simbolo il simbolo è un segno naturale come può essere una pietra che cade nell'acqua ma lui si riferisce a qualcosa di molto molto superiore mentre i segni convenzionali rappresentano quello che rappresentano se c'è il segno di bluetooth vuole dire che qui c'è il bluetooth niente di più di quello se io vedo le orme di una persona sulla sabbia che cosa io posso capire subito è passata una persona qua è passata una persona poco tempo fa io posso dire quando è passata posso dire se era una persona che stava camminando o se stava correndo se aveva un cane con sé posso pensare anche se è una persona grassa o una persona più magra posso pensare se è un uomo o se è una donna tanti elementi da una orma e quindi la relazione orma vestigio segno e quello che lui rappresenta molto di più è proprio il passo del simbolo il simbolo è un segno naturale un segno convenzionale non sarà mai un simbolo non perché lo dico io ma perché funziona così il simbolo è universale il simbolo parte da delle caratteristiche naturali materiali il simbolo dobbiamo pensarlo sempre come un movimento simbolem vuole dire mettere insieme due cose diverse come abbiamo appena fatto io vedo le orme e metto insieme le mie immagini di una persona magari dopo quando vedo la persona non corrisponde alle immagini che avevo pensato ma è una persona non sarà un osso non sarà un leone sarà una persona mettere insieme simbolem e quindi il linguaggio simbolico sarà sempre un linguaggio dinamico e la forza del simbolo sarà sempre una forza di simbolo movimentata si può parlare sempre di un movimento simbolico l'immagine che Giacomo di Sarug usava 1500 anni fa come voi avete potuto percepire è movimento perché lui usa l'immagine della pietra e noi continuiamo a vedere questi cerchi che si aprono con delle immagini e questa acqua ondeggianti e quindi continua nella nostra testa il movimento che si amplia ma che mantiene il suo centro il simbolo rimetti sempre a un livello superiore a un livello ontologico e quindi non mi dite non ho capito tutto rispetto a questo simbolo che io vi risponderò è normale noi non non finiremo mai di esaurire la potenza simbolica di un di un simbolo di un simbolo buono di un simbolo forte come già potete immaginare soprattutto quelli che si piacciono del greco simbolein il suo rovescio quale sarebbe il contrario di simbolein di abolein diabolico è qualcosa che separa simbolico è qualcosa che unisce e quindi quando si parla di diavolo si parla di colui che separa non era di per sé una cosa negativa né buona perché certe cose devono essere separate ma quando si usa la parola come proprio colui che separa e colui che separa l'uomo da Dio colui che separa me da me stesso colui che separa l'uomo e donna è sempre una questione diabolica perché è un movimento è quello che non quindi può essere molto cattivo l'origine della parola del vocabolo e del movimento simbolo viene dalla cultura delle culture antiche che usavano il simbolo il simbolo era anche un oggetto usato per un contratto tra due persone loro incidevano il testo o dei segni su una ceramica che dopo era cotta e la rompevano in due pezzi ogni parte dei contrattanti aveva un pezzo e quello serviva di simbolo univa queste due persone in questo in questo contratto e quindi quando io potevo pagare il mio debito o saldare io andavo con quel pezzo e l'altro e l'altro aveva l'altro pezzo e si faceva questo succede nella Bibbia nel libro di Tobia perché il suo figlio Tobit figlio va a ricevere a riprendere i soldi che il suo padre aveva in deposito con un parente una banca e lui non va in persona lui dà il simbolo e quell'altro va e riceve era una quantità mi sembrano 20 milioni di euro dicono era una quantità tremenda e che il padre aveva dimenticato di avere e stava morendo di fame è una storia molto bella il simbolo quindi la parte le orme o il pezzo che io ho richiama a qualcosa che io non vedo e quindi il mio occhio completa quello che manca e questo è straordinariamente positivo e stimolante per il cervello completare quello che manca completare lo spazio con la mia immaginazione con il mio senso qui manca questa parte il nostro cervello non si piace di cose semplici quando noi cerchiamo di rendere tutto semplice ai nostri figli alle persone che cosa noi facciamo noi li trattiamo da bambini ma neanche i bambini sono contenti di essere trattati da bambini le persone si piacciono non le persone ma il nostro cervello si piace di risolvere i problemi e quindi le indovinelli le cose le cose che stimolano il gioco di parole il gioco quelle cose stimolano perché il cervello si piace di risolvere i problemi noi paghiamo per risolvere i problemi acquistiamo le parole incrociate noi andiamo ad acquistare problemi da risolvere perché il nostro cervello ha un bisogno continuo di fare questo esercizio questa palestra interiore di mettere insieme le cose quando le cose sono troppo esplicite troppo scontate viene la noia perché il cervello dice qui non c'è niente da risolvere tutto era già risolto è un po' quella la questione della Bibbia un po' è quello perché si l'ho scolto tutti i giorni nella messa perché non c'è più niente da scoprire lì perché è già tutto spiegato no e invece invece è tutto da tutto da mettere insieme quando noi riusciamo a mettere insieme due cose sentiamo un grande piacere interiore il nostro cervello ci ricompensa ma non solo è una sensazione di pienezza quando finalmente riusciamo a fare una connexione di una cosa con l'altra di un testo biblico dell'antico testamento con un testo biblico del nuovo testamento una immagine conosciuta con una immagine nuova quando quando noi facciamo per esempio mettiamo insieme un libro che stiamo leggendo con qualcosa che la mia nonna già mi ricontava io metto insieme ma guarda la mia nonna diceva esattamente quello e questo fa il nostro cervello funziona a base di quello che i neurologi chiamano sinassi e io faccio una sinassi quando faccio una relazione tra una cosa e l'altra e quindi è un modo di imparare la nostra mente lavora in modo simbolico proprio con queste sinassi mettendo insieme una cosa in un departamento ma questo departamento dentro della nostra mente non è un una stanza chiusa ma è un un luogo perché il nostro cervello è un grande luogo dove tutto sta collegato da tutte le parti e quindi l'elettricità voi già avete visto le animazioni nel cervello come ogni informazione cerca qualcosa di conosciuto cerca di conosciuto dentro di noi e qui cominciamo a entrare nella questione del simbolo già i filosofi pressocratici già parlavano che noi tutto quello che noi conosciamo fuori di noi è perché già è dentro di noi e quindi conoscere e riconoscere qualcosa che già è dentro di me da qualche esperienza che ho fatto prima e quindi non c'è niente di nuovo che possa entrare nell'uomo è una cosa strana ma dicono che quando sono arrivati i primi europei a meno di quello che noi conosciamo in America i nativi americani non riuscivano a vedere le navi non riuscivano a vedere le navi perché le navi così grandi per loro loro non avevano mai visto una nave e non potevano neanche immaginare una nave perché i nativi americani non erano navigatori per loro il mare avevano tanta terra che non avevano bisogno e quindi non riuscivano a vedere le navi andavano alla spiaggia guardavano dove sono venuti questi vedevano le 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 barche piccole con cui sono arrivate alla spiaggia ma non vedevano le navi fino a che il suo capo religioso molto testardo dice io voglio vedere queste navi e quindi rimani tanti giorni e notte lì nella spiaggia guardando il mare fino a che a un dato momento lui riesce a vedere le navi e quando lui vede le navi le altri vedono le navi anche voi mi guardate sembra ridicolo non è ridicolo perché quando vediamo una cosa che noi non abbiamo mai visto se il nostro cervello non ha quelle immagini per inquadrare quello che noi stiamo vedendo noi non li vediamo noi non li vediamo per questo la gente dice ma i bambini parlano con gli angeli senza altro che parlano perché loro li vedono ma come noi non li abbiamo mai visti non siamo incapaci di vederli e quindi passano davanti a noi e sono invisibili perché il nostro cervello non non ha un registro con cui associare quello che succede gli altri indigeni dell'amazonia quindi quello più dall'interno ancora con i primi contatti con i colonizzatori gli antropologi facevano delle fotografie dell'indigene e l'indigene non riuscivano a vedere la foto li mostravano le fotografie e loro dicevano noi non vediamo niente che cosa vedete vediamo un pezzo di carta con dei puntini perché è il cervello che dovrà essere educato elaborato essendo europei erano gli europei o quelli della civilizzazione sono abituati a vedere immagini o dipinte o fotografie e quindi il cervello è abituato a identificare una foto ma chi non ha mai visto non è capace tutto questo per capire che la nostra mente unisce le informazioni il Vangelo di Luca parla esplicitamente che nelle traduzioni purtroppo sono poveri e purtroppo sembra che diventano ogni volta più poveri ma quando Luca parla che la Vergine Maria conservava tutte queste cose meditandoli nel suo cuore la parola meditando è simbolisa Maria conservava tutte queste cose mettendo insieme nel suo cuore mettere insieme voleva dire che lei leggeva i testi lei conosceva ci sono delle tradizioni e anche degli studi biblici seri che garantiscono più o meno che la Vergine Maria conosceva i salmi di memoria così come Gesù così come gli apostoli perché gli antichi conoscevano tutto di memoria soprattutto gli antichi che erano Pi e quindi conoscere tante cose è interessante ma è più interessante mettere in rapporto le cose che noi conosciamo per quello meditare sarebbe questo esercizio di mettere insieme mettere insieme che cosa? mettere insieme la parola ascoltata in quel momento ma mettere insieme con gli eventi della vita di ciascuno di noi quello che sta succedendo e piano 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 il quadro comincia a illuminarsi se noi vediamo tutti gli Evangeli sono un po' costruiti di questo modo e questo è stato successo perché stava scritto che ma non è che immediatamente quando succede il fatto l'Evangelista dice ah no sarà nel prossimo anno quando ricordano quello che è successo qualcuno nell'assemblea dice sì ma questo è successo perché già il profeta aveva detto che il Messia doveva soffrire era un pezzettino ma era quello pezzettino che sarà la chiave oppure i salmi che già parlavano di questo o così è un continuo mettere insieme è il grande è il grande lavoro della Vergine Maria ma è il grande lavoro di ciascuno di noi se pensiamo che il compito della nostra vita è mettere insieme le cose più contraddittori che possono avere in questa vita i nostri genitori i nostri genitori sono un paradosso non mi guardate così tutti i genitori sono perché quando si tocca il tema genitori dice no i miei genitori erano santi sì santi i contraddittori perché umani e di solito i Dio non mette mai due persone uguali una accanto all'altra si ucciderebbero no mettono persone diverse per creare contrasti per crescere e è il compito nostro dei figli di dentro di noi ricomporre il mosaico per capire bene come uno completava l'altro come uno rispondeva agli stimoli di un modo di un lato di un altro perché alla fine vuole dire ricomporre la nostra persona noi siamo il simbolo dei nostri genitori siamo 50% uno 50% l'altro e quindi non è un compito opzionale o lo facciamo o lo soffriremo tutta la vita soffriremo di frammentazioni soffriremo di conflitti interni mai risolti e così via quindi comporre un mosaico ho usato l'immagine di un rompicapo ma l'idea più precisa sarebbe proprio quella di un mosaico perché il mosaico non viene con istruzioni con un rompicapo così acquistato se non metti quel pezzo nel punto giusto non funziona quel mosaico non funziona così quel mosaico noi possiamo con i pezzettini realizzare quello che vogliamo e quindi posso fare del mio mosaico può essere una tragedia può essere anche una comedia e quelli sono i più divertenti ma può essere una di un modo o di un altro può essere una bellezza perché anche la tragedia è bella anzi le tragedie rivelano il meglio delle persone in un mosaico chi già ha fatto un mosaico può capirmi il mio mosaico i pezzettini anche quei più strani sono necessari di solito i più apprezzati sono quei quattradini proprio carini perché riempiono bene e si possono creare delle linee molto molto belle ma quando si arriva in certi punti abbiamo bisogno di uno tutto estorto e è una grandissima soddisfazione quando quel pezzettino tutto estorto che sembrava inutile entra perfettamente in quell'espazio e dà la ciliegina sulla torta e quello ci fa capire in questo mettere insieme che niente va sprecato che nessuna memoria va sprecata questo è un tema dell'altro ieri Gesù ha detto la mia missione è non perdere nessuno di quello che lui che il padre mi ha dato e anche ciascuno di noi è questa un po' la nostra missione non perdere niente ma fare la fatica di mettere insieme l'ideogrammi diverso dalle altre lingue le altre le lingue le lettere delle lingue sono segni convenzionali tanto che se noi vediamo una parola scritta in indi oppure in cinesi oppure in altre lingue noi non li capiamo perché è convenzionale i cinesi capiscono i cinesi i giapponesi i giapponesi i coreani il coreano noi che usiamo i caratteri latini riusciamo almeno capire le lettere ebbene con gli ideogrammi cinesi e anche quelli giapponesi non funziona così certi ideogrammi sono simbolici perché sono molto 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 antichi e sono partiti da simboli questo è un ideogramma che rappresenta il cielo la terra e l'uomo l'uomo è questo segno di più tra il cielo e la terra l'incrocio la croce è il simbolo dei simboli quando noi parliamo che il simbolo unisce due cose di solito noi facciamo questo movimento ma in verità il simbolo unisce di sopra e nell'orizzontale e nella verticale e quindi il simbolo della croce è simbolo dell'essere umano l'essere umano è colui che appartiene a due dimensioni diverse apparteniamo a dimensioni orizzontali e apparteniamo alla direzione verticale per quello noi possiamo essere un punto di unità tra tra le due le due realtà e questo non è poco perché noi viviamo in un tempo in cui la ideologia che ci domina e non solo a voi ma a tutto il mondo è quella di renderci infelici perché più infelici noi siamo più consumiamo gente felice non gli spendi soldi non gli spendi soldi perché non c'è bisogno se invece io sono infelici io ho necessità di fare un po' di acquisti per migliorare la mia morale in un primo momento ma posso anche fumare le sigarette delle persone felici perché così magari sarò anche felice anche io o posso avere la macchina di gente felice o posso avere la casa come la gente felice usare i gioielli o posso avere il potere delle gente felice e così via in questa ideologia noi che dobbiamo essere infelici di solito è molto sottile ma passano l'universo è così grande e la terra è così piccola noi siamo niente su un pianeta di niente su un sistema solare di niente con una stella che è una polvere invisibile nell'universo e così vanno crescendo 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 che noi alla fine non siamo niente anzi dal punto di vista ecologico o ecologistico sarebbe meglio per il pianeta se noi non esistessimo avete sentito già questi discorsi quando l'uomo sparirà del pianeta sì il pianeta sarà bello un'altra volta ma santo cielo dove siamo arrivati dove siamo arrivati l'universo senza l'uomo non avrebbe senso l'uomo nell'universo è colui che dà senso all'universo perché la pianta il fiore è bello ma lui non sa che è bello è l'uomo è l'uomo che dice il fiore è bello è lui che dice il cielo è meraviglioso è lui che dice le montagne sono superbe è l'uomo è la conscienza dell'universo l'universo senza conscienza e questo i cinesi lo hanno capito gli africani lo hanno capito tutte le culture lo hanno capito che l'uomo non è il massimo ma è necessario la nostra missione è quella essere un segno di più ho mostrato questo nella lezione quest'anno una studentessa cinese e lei ha detto questo è la parola re in cino questa è la parola re e è perfetto è perfetto il re è colui che unisce il cielo e la terra non per niente quando i cristiani hanno voluto tradurre quello che Gesù è per loro nei primi secoli ma anche oggi che cosa noi abbiamo come abbiamo come abbiamo presentato Gesù come imperatore come re e la Vergine Maria come regina ma non perché loro in vita loro sono stati re ma per quello che loro rappresentano e quindi hanno usato un'immagine simbolica per dimostrare sì se l'uomo è il senso dell'universo e se il re compie questa missione di una forma rituale nessuno ha superato la figura di Cristo è lui la vera croce che unisce il cielo e la terra la croce non era un simbolo cristiano originalmente è un simbolo universale il cristianesimo i cristiani che non sono scemi hanno capito abbastanza bene che quello era la chiave pausa e sto finendo quindi questa era solo per confermare quella idea che l'uomo è la misura tra il cielo e la terra il quadrato simboleggia la terra il cerchio il cielo l'uomo tocca con il suo corpo il cielo e la terra è quello che l'uomo vitruviano di Vitruvio già era la concezione di Vitruvio che Leonardo lo esprime di questo modo invece i primitivi lo esprimevano di un altro modo che noi vedremo dopo adesso facciamo una pausa una volta che abbiamo delimitato un po' quello che è il simbolo in verità abbiamo delimitato ma non troppo cerchiamo di spiegare adesso la questione del linguaggio simbolico il linguaggio simbolico è un linguaggio che si forma dentro di noi a partire da esperienze esperienze del nostro corpo e per quello è chiamato un linguaggio affettivo vi presento un po' di bibliografia che può aiutarvi se vi interessa il tema Gaston Bachelard è uno che è difficile dire che cos'era era perché basicamente lui era un scienziato non aveva una formazione filosofica iniziale dopo si è si è perfezionato ma le hanno chiesto di scrivere sul fuoco un lavoro scientifico e lui nel cercare di definire il fuoco si è convertito tra virgolette al cristianesimo ma si è convertito a a un nuovo modo di capire perché penso che anche noi da bambini abbiamo fatto di osservare il fuoco e cercare di capire che cosa è il fuoco perché il fuoco è e non è allo stesso tempo le fiamme vanno e vengono e lui di quello che lui doveva scrivere lui ha scritto un piccolo libretto che si chiama La fiamma di una candela e già nel titolo si capisce bene che che lui ha capito che era impossibile capire il fuoco ma sicuramente era più impossibile ancora capirlo con i metodi scientifici e quindi per capire il fuoco ci voleva osservare il fuoco fare l'esperienza del fuoco e lui darà un po' origine a quello che oggi noi chiamiamo epistemologia parole complicate complicate e può essere un nome per un gatto epistemologo no è difficile da chiamarlo ma non interessa perché i gatti non vengono e quindi epistemologia non è necessario che si ricordi di questa parola è questo nuovo modo di conoscere a partire dalle esperienze che le persone la umanità ha fatto del fuoco e quindi lui userà molto la letteratura universale l'esperienza delle religioni l'esperienza degli uomini primitivi l'esperienza delle persone per tutto messo insieme per capire il fuoco alla fine si capisce il fuoco e non lo si capisce mi spiego non è che non si capisce si capisce ma non si esaurisce il significato e le possibilità e quello è il simbolo e lui ha creato una celebre quattrilogia che ha parlato sul fuoco sull'acqua sull'aria e sull'aria aria fuoco terra terra ognuno di questi ha scritto dei bei libri che sono molto piacevoli da leggere sono tradotti tutti in italiano dopo di lui e lui ha avuto un studente che ha portato avanti i suoi studi che è Gilbert Durand le strutture antropologiche dell'immaginario e lui ha sviluppato abbastanza questo nuovo modo di conoscere noi useremo molto questi due autori per quello che noi parleremo adesso insieme a padre Charles André Bernard che era un gesuita francese che ha utilizzato molto Bachelard e Durand per creare sviluppare un'idea della questione della teologia simbolica perché Gaston Bachelard e Gilbert Durand non erano cattolici o cristiani come pensiamo noi e come siamo noi ma hanno dato degli strumenti padre Charles Bernard da buon gesuita da buon cristiano ha cercato di utilizzare quegli strumenti a nostro favore per capire la mistica cristiana capire la teologia capire e lui scriverà un libro che si chiama teologia simbolica un altro che si chiama teologia affettiva che sono libri veramente molto molto buoni qualcuno se prendete questo nome Charles André Bernard sull'internet c'è un'associazione degli amici di padre Charles Bernard di cui faccio parte anch'io perché lui era maestro della mia maestra io sono studente sono stato studenti e adesso amico di Maria Giovanna Muzzi che è stata discepola di padre Charles Bernard e quindi io continuo lui è il mio nonno in questa strada e quindi quello che vi presento che vi ho presentato già e che vi presento non sono idee mie la formatazione è brasiliana ma diciamo il contenuto è un contenuto che viene da molto lontano e ha molto più autorevolezza inoltre questo Jean-Paul e Sterks sono due autori ma gli autori di questa opera sono ancora più numerosi sono più o meno sette o otto persone che hanno lavorato in questo libro che si chiama I simboli del medioevo il titolo è povero il titolo non dice niente di quello che veramente è questo libro è un libro straordinario che ci aiuta molto a capire tutta la questione della simbolica nell'arte sia dell'arte medievale sia dell'arte antica è stato prodotto dai monaci beneditini francesi di una abbazia che ha prodotto questo libro che ha un tesoro è insuperabile è stato pubblicato nell'81 ma non c'è niente di simili dopo di lui quando noi parliamo di un linguaggio simbolico linguaggio affettivo vuole dire che le esperienze che abbiamo fatto ci hanno affettato ci affettano non vuole dire perché di solito noi quando parliamo di affetto sembra una cosa positiva una persona affettuosa ma no affetto è sempre tutto quello che mi che mi tocca di un modo di un modo forte questa è una foto che mi piace tanto l'ho fatta tanti tanti anni fa perché questo bambino già è un ventenni più o meno quasi era la prima volta che lui era uscito di casa dopo che era nato e quindi era il suo primo contatto con il mondo eravamo incontrati proprio a piazza san pietro e si capisce che piazza san pietro con maria giovanna muzzi che era la professoressa di questa ragazza che aveva avuto questo questo bambino questo sguardo sempre mi ha colpito molto è lo sguardo di uno che sta scoprendo il mondo è un sguardo da scanner perché ci ricorda come siamo stati noi tutto quello che noi abbiamo imparato in questi anni che noi non ricordiamo più ma quello che noi sappiamo ancora è venuto in quel periodo Padre Charles Bernard e i nostri autori dicono che noi abbiamo due fonti per creare il linguaggio simbolico dentro di noi la prima è il nostro corpo il nostro caro Michele il piccolo Michele che con il suo corpo conosce il mondo e nel suo corpo guarda la memoria di quello che lui conosce del mondo e l'altra fonte è il cosmos la esperienza che noi facciamo con il cosmo sono queste due le sorgenti di materiali per la nostra esperienza simbolica vediamo guardando il cielo di solito quando noi guardiamo il cielo purtroppo noi non vediamo vediamo questi perché questa è una foto che prendi tanto tempo è una foto in cui la macchina fotografica rimane aperta per due ore tre ore e quindi prendi tutto il movimento delle stelle intorno alla stella polare in mezzo si vede la stella polare e intorno tutte le altre stelle che stanno girando intorno e questa è la nostra esperienza del cielo e questa esperienza anche se noi la nostra generazione non guarda più il cielo ma rimane la esperienza fondamentale perché noi portiamo la memoria dei nostri antenati dentro di noi e continuiamo nella cultura a dire per esempio che il sole è nato il sole è salito già oppure il sole sorge oppure noi diciamo il sole ha tramontato e questo non esiste è la terra che sta girando il sole rispetto alla terra e sta fermo rispetto alla terra il sole sta in movimento in altissima velocità verso la stella vega che tra qualche trilione o trilione di anni si sbatteranno tra le due stelle perché si stanno attraendo ma in una grandissima velocità ma grazie a Dio l'universo è così grande e noi non sentiamo ma rispetto alla terra noi stiamo girando e questo girare provoca questo movimento e quindi l'uomo fa guardando il cielo l'uomo fa parecchie esperienze che saranno fondamentali per noi e che noi riprenderemo piano piano e quindi questo linguaggio corporeo si usa di questi due sorgenti la sorgente di un cosmo organizzato guardando le stelle che girano intorno alle stelle polari l'uomo fa l'esperienza dell'ordine dell'ordine nel disordine perché le stelle non sono simetriche ma non per quello non sono belle sono bellissime e quindi l'esperienza che l'uomo fa è che tutto è nel suo posto l'esperienza che tutto ha un centro la stella polare è il centro del cielo e questo centro in cielo corrisponde perché una cosa possa girare ha bisogno di un punto fisso ma non solo un punto fisso in cielo sopra ma anche un punto fisso in terra e quindi esiste anche se non vedo un'asse invisibile che unisce il cielo e la terra e permette che il firmamento giri e questa è la visione del cosmo che ha tutto l'Antico Testamento tutto il Nuovo Testamento e tutto il Medioevo cambierà comincerà a cambiare verso il 1400 1300 1400 comincerà a cambiare questa mentalità e questa concessione cosmica che il sole non gira il sole non gira intorno alla terra ma è il terra che gira intorno al sole e così via ma l'esperienza che l'uomo fa rimane la stessa rimane la stessa noi ci comportiamo come se la terra fosse rotonda noi ci comportiamo come se il cielo fosse rotondo fosse rotondo sopra di noi perché così lo sperimentiamo nessuno di noi riesce a pensare lo spazio come una sfera io penso adesso vado a Roma faccio questo faccio questo movimento no io faccio questo movimento sullo spazio io mi mi muovo su una superficie piana io prendo una cartina e credo che questa cartina rappresenti lo spazio e non rappresenta è finto lo spazio non è quadrato e lo spazio è rotondo e quindi tutte le cartine dicono una bugia le distanze non sono le distanze reali sulla cartina perché la cartina è un spazio così che ho fatto così quando io faccio così certi punti diventano più vicini gli altri punti diventano più lontani e quindi non è reale tutte le cartine sono 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 approssimative ma noi agiamo e continuiamo a pensare a comportarci di modo simbolico per quello è un recupero di questa noi abbiamo bisogno di una terra piana perché la terra piana ci dà sicurezza se pensiamo che siamo sopra una sfera già avete provato di camminare su una una palla non è molto piacevole non è stabile inoltre c'è un altro dettaglio che anche ci sfuggi e che noi preferiamo non pensare è che noi non siamo sopra la sfera può darsi che noi siamo sotto la sfera e quindi siamo capovolti tutti capovolti appesi sul sul vuoto ma capite il bisogno che noi abbiamo di un firmamento che ci protegga di questo vuoto la necessità che noi abbiamo che la terra sia quadrata non esattamente quadrata ma che sia quadrangolare essere quadrangolare vuole dire avere un davanti un dietro un destra e sinistra nord sud lest ovest perché senza queste direttive io non riesco a muovermi nello spazio saranno queste le coordinate che mi permettono di dire ma questo è più al nord più al sud altrimenti in una città in un spazio non riesco a muovermi e quindi tutte queste cose scientifiche noi le teniamo da una parte ma tutte le altre cose noi agiamo come gli uomini medievali ancora ma se lo facciamo di modo consapevole se lo facciamo di un modo più integrato non schizofrenico può darci dei buoni frutti le fonti cosmiche le fonti corporali le fonti corporali possono essere a livello sociale e a livello interpersonale l'affettività simbolica non è vincolata al simbolo stesso ma è come se fosse un sostantivo è più un aggettivo e si capisce sempre dall'aggettivo e quindi del movimento che possa avere per quello i dizionari di simboli non ci aiutano molti avete consultato un dizionario di simboli aiutano fino a un certo punto ma se il simbolo non è nel suo contesto non serve poco serve poco perché non è la stessa cosa uno può dire ma che cosa simboleggia l'acqua dipende l'acqua può simboleggiare vita può simboleggiare la morte dipende che cosa definirà che cosa simboleggia l'acqua i suoi aggettivi e quindi un'acqua cristallina è un'acqua buona vita ma se questa acqua è verde già non la bevo perché è piena di batteri e quindi è un'acqua verde di un stagno è un'acqua un po' rovinata oppure un'acqua completamente nera di una fossa è un altro tipo di acqua l'acqua agitata è un altro tipo di acqua e quindi l'acqua sarà definita un po' dai suoi aggettivi un'acqua trasparente perché alle volte le persone nei sogni i nostri sogni sono sempre in linguaggio simbolico e quindi la gente ha sognato con acqua che cosa vuole dire no dipende dall'acqua è un'acqua trasparente ah è un'acqua trasparente bene è una cosa ah no era un'acqua buia completamente non si vedeva quello che c'era sotto è un'altra cosa per quello è necessario conoscere i quattro movimenti corporali che sono legati ai simboli i quattro movimenti o quattro dominanti corporali sono il primo la posizione retta il secondo l'interiorità il terzo il cammino e il quarto il ciclo da questi quattro movimenti noi formiamo tutti i simboli che noi conosciamo tutti i simboli non c'è un simbolo o un movimento simbolico che non sia inquadrato in questi quattro movimenti e questi quattro movimenti in verità sono due non cercate molta logica nel simbolo due possono essere quattro perché due sono i fondamentali che è il movimento di discesa legato alla interiorità e il movimento di ascensione legato alla posizione retta da questi due movimenti voi mi guardate e dite così semplici sì è un movimento di discesa e un movimento di ascesa di qui tutto tutto si riassume in questi due in due movimenti dopo ci saranno i movimenti nell'orizzontale e dopo ci saranno i movimenti circolari ripetitivi ma gireranno tutti noi prendiamo adesso uno per uno e così partiamo l'interiorità e il movimento di discesa è un l'interiorità se noi pensiamo che un simbolo sia una stella l'interiorità è una constellazione di migliaia di migliaia di stelle che fanno parte di questo regime simbolico discendere è un riposo se noi pensiamo per esempio una piuma che cade una piuma che cade è un movimento profondamente rilassante no? perché cade di un modo molto diverso che una palla di piombo che cade quello non è molto riposante quello fa parte di un'altra constellazione simbolica noi usiamo con frequenza la parola quando noi parliamo che la notte è venuta noi diciamo la notte è discesa è discesa la notte quando noi diciamo che la notte è discesa vuole dire che la notte è venuta piano piano e ha riempito la terra di che cosa? di riposo se io voglio dire che la notte è venuta subito di un modo violento dico la notte è caduta è caduta su di me la la discesa è molto legata a questa esperienza iniziale che abbiamo fatto penso che voi conoscete queste immagini sapete che cos'è? no è un fetto umano è un piccolo fetto che si sta sviluppando aggrappandosi alla parete dell'utero e quindi è l'uovo fecondato è già un po' sviluppato che è caduto è disceso nell'utero materno tutti noi abbiamo fatto questa esperienza questa è quello che ci unisce come esseri umani ci sarà un altro autore che non ho citato ma che uso molto perché mi ha illuminato molto l'idea si chiama Eric Neumann di solito gli educatori li conoscono perché lui ha scritto molto sulla psicologia infantile Eric Neumann era discepolo al studente di Jung e ha studiato in profondità le origini della conscienza dell'uomo secondo questo studioso noi nei primi momenti della nostra esistenza formiamo facciamo delle esperienze e queste esperienze dentro del grembo della nostra madre ci daranno tutte le immagini che noi dopo useremo per esprimere il sacro è forte questo per esprimere il sacro è impossibile senza l'esperienza dentro della madre per quello un robot non riuscirà mai a fare quello perché sono delle esperienze questo uomo da buon tedesco non lascia un aspetto fuori di tutto quello che l'essere umano può sperimentare dentro del grembo materno ma soprattutto questa esperienza di essere dentro di qualcosa di più grande di lui non per niente noi siamo dentro dell'universo un universo che noi non capiamo così anche noi siamo stati dentro dell'universo che era il corpo della nostra madre per nove mesi tutta l'idea della sfera per esempio noi siamo stati una sfera questo è un elemento per quello di diventare un po' rotondino è proprio della natura le persone magre mi scusino ma diciamo abbiamo cominciato la nostra esistenza come una sfera perché già abbiamo visto le animazioni è proprio così l'uovolo fecondato diventa una sfera perfetta e quella sfera perfetta rimane per tanti adesso sappiamo tanti dettagli del processo iniziale della vita questo ovolo che dopo si chiama uovo rimane rimane così per tanti giorni di solito nell'animazione veloce ma può rimanere per tanti giorni fino a che cominciano a si moltiplicare geometricamente le cellule e quindi questo stato sferico di unità interiore è la nostra origine e questa unità interiore rimane questo desiderio di unità interiore rimane dentro di noi e questa unità interiore per esempio nella mitologia c'è un sacco di cose scritte su di questo e se pensiamo bene quello che sembra essere la favola delle favole che sono i racconti della Bibbia della creazione dell'uomo funziona bene perché questa sfera non è né maschio né femmina non è maschio né femmina e fino adesso non hanno scoperto come come la cosa si definisce che cosa provoca che quella sfera diventi un bambino o una bambina per tanti giorni quella sfera è una sfera che non è separata perché sesso viene di settare separato e quindi in origine siamo stati tutti noi tutti è un essere unico nella mitologia questo essere unico si chiama androgino l'androgino i rabbini nella tradizione ebraica chiamano Adamo androgino perché ci sono due racconti della creazione il primo racconto il primo capitolo e il secondo capitolo nel primo capitolo si dice che Dio ha creato prima Adamo ah no nel primo dice che ha creato Adamo e Eva nel secondo che racconta che ha fatto il modellaggio ha creato l'uomo ma questo uomo non è uomo maschio è un uomo fatto di terra Adamo vuole dire fatto di terra e quindi in un primo momento Dio crea Adamo androgino in un secondo momento lui lo separa in due creando l'uomo e la donna ci piace di più l'idea che era un maschio di cui lui ha tolto la femmina ma in origine non era esattamente le possibilità erano teologiche sono molto grandi perché loro spiegano così di solito c'è sempre un bambino che chiede al rabbino rabbino perché Dio ha creato tutti gli animali in paio ma quando ha creato Adamo ha creato solo e il rabbino risponde perché Dio ha fatto l'uomo l'essere umano a sua immagine e semiglianza così come Dio è uno l'uomo era uno prima cosa seconda cosa il partner dell'uomo sarebbe Dio e quindi Dio aveva pensato un paio ma il paio era lui e Dio aveva creato l'essere umano per sé questo pensiero mi provoca vertigini no? e penso che se non provoca è proprio perché non abbiamo capito noi siamo stati pensati come il partner di Dio fantastico noi non ci ha provocato vertigini ha provocato ancora più vertigini Adamo e lui si è rattristato molto ha detto oh oh non ce la faccio e quindi e Dio lo separa in due e accetta di chi saranno l'uomo e la donna insieme il partner di Dio ma che il progetto originale era quello di essere una cosa sola di essere una cosa sola per quello noi notiamo Gesù seguiva questa scia che l'uomo formerà una sola carne sono tutte esperienze che vengono della interiorità questo è solo un piccolo esempio di come qualcosa che è successo dentro di noi e che le mitologie hanno cercato di utilizzare è come se noi avessimo dentro di noi la memoria di un tempo che noi siamo stati uni una cosa sola questo viene di là quasi in tutte le culture antiche anche l'indigene in Brasile avevano nelle sue mitologie nella cosmogonia gli esseri umani in principio erano assessuati e dopo per un dono divino hanno ricevuto hanno si sono separati i maschi delle femmine e quindi è qualcosa che uno ritiene nella memoria arcaica e che dopo si trasmette di una forma religiosa e quindi altro che un libro di scienza la Genesi è un libro che insegna proprio l'essenza delle cose inoltre l'interiorità è legata quindi sempre al grembo materno e dentro del grembo materno e possiamo dire che anche dopo fuori ma in rapporto sempre con la madre è tutto il rapporto del nutrimento quindi essere nutriti essere nutriti dentro del grembo materno o nell'allatarsi è legato alla madre ma soprattutto nel gesto di essere allatato perché non basta essere imboccato ma anche il contatto fisico perché siamo stati allenati così per nove mesi per nove mesi siamo stati nutriti di che cosa? dalla nostra madre e quindi noi troviamo selvatici quelli che dicono gli indigeni brasiliani che si piacevano molto di mangiare i suoi nemici ma non li mangiavano per vendetta e non li mangiavano i nemici cotardi loro facevano guerre per prendere prigionieri per dopo nelle cerimonie rituali mangiarli ma prendevano solo i bravi perché volevano diventare bravi come loro quindi l'antropofagia non è semplicemente mangiare perché ho fame ma aveva aveva questo senso di partecipare alla natura di colui che si mangia questo ci sembra selvatico lo abbiamo fatto per nove mesi per nove mesi ci siamo nutriti della nostra madre per nove mesi quindi essere nel grembo voleva dire essere nutriti dal suo sangue mangiare quello che lei mangiava essere formato dalla sua materia tutto questo ci ha dato la materia immaginaria per tutti i nostri rituali se pensiamo bene qual è il centro della nostra della nostra celebrazione eucaristia chi è l'eucaristia è proprio mangiare il corpo del Signore per quale motivo noi mangiamo il corpo del Signore per diventare come Lui è certo che spiegare questo ai bambini non è molto semplice ma se noi quando noi capiamo una cosa in profondità noi riusciamo a spiegarle di modo semplice ma tutto questo perché noi abbiamo questo dentro di noi già non è una cosa fuori è dentro la concessione questa è un'immagine di un faraone che mamma è un albero notate l'albero è come una madre e lui ha la tetta e lui sta succhiando e allo stesso tempo prende il braccio della madre niente è casuale perché il nutrirsi non è nutrirsi solo di cibo è nutrirsi anche di affetto è nutrirsi anche della della bontà di questa terra madre che gli dà da mangiare è un atto religioso penso che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza o no di mangiare un frutto nell'albero che penso che sia una delle gioie più grandi che si possa avere in questa vita no? trovare un ciliegio pieno e mangiarlo e magari non mangiarlo da solo ma condividere con tutta la famiglia che mangia come gli uccellini che stanno mangiando anche le persone guarda che bello oppure le arance oppure le melle o mangiare insieme da un albero che generosamente offre il suo il suo frutto non per niente in tutte le religioni mangiare è un atto sacro le religioni primitive le religioni tradizionali non si mangia mai senza pregare non si mangia mai non perché per paura della divinità ma per un senso di gratitudine verso questa terra madre che ci dà da mangiare e quindi tutto quello che gira intorno al nutrimento è legato alla interiorità anche il rovescio perché il grembo materno è un luogo bello che dà tanto nutrimento ma è un luogo pericoloso perché il grembo materno è nella stessa zona dell'apparato digestivo e quindi dal punto di vista simbolico è pericoloso e di lì escono tutta una gamma simbolica legata al sacro terribili la dea devoratrice la madre devoratrice la madre che divora i suoi figli sono tante le religioni primitive che hanno la dea della distruzione la dea Kali è la più famosa e quindi la figura materna non è una figura solo carina ma è anche una figura e la dea la dea terra è molto brava molto buona ci dà buoni frutti ma ci dà anche i vulcani ci dà anche i terremoti ci dà anche cose cose spiacevoli anche la distruzione e quindi capite che solo con una una constellazione noi abbiamo il fondamento di tanti altri altri simboli entrare in una grotta sarà per l'uomo l'esperienza di tornare al grembo materno tornare al grembo materno per ritrovare la salute ritrovare la pace ritrovare il senso trovare un riposo vero e proprio per quello le grotte sono i primi luoghi di culto primi luoghi di di almeno che noi ci sono delle delle caverne di più di 20.000 anni dipinte dipinte con gli animali e quindi tutti i personaggi San Benedetto lo farà lo stesso ma e lì andranno in una grotta per dove stanno le sibile nelle grotte dove è la strega nelle grotte dove abita il drago nelle grotte la grotta sarà questo questo grembo materno ma la terra sarà quella nelle grotte saranno anche le fontane le sorgenti di acqua sulfurica che hace bene la salute e l'argilla che guarisce le malattie e quindi la terra è questa è questa madre che ha sì questa ambivalenza anche simbolo della interiorità è la notte quella notte tranquilla che scendi e ci dà la possibilità di riposare dopo una giornata dura e ci è riparatrice la constellazione della interiorità dà sempre questa possibilità di ripararsi di rifarsi il sono ci ripara i colori legati all'interiorità sono i colori caldi i colori saturi perché? perché sono i colori che noi abbiamo sperimentato nel grembo materno quando noi sentiamo questi colori noi ci ricordiamo di quanto eravamo felici che non dovevamo alzarsi al mattino che non dovevamo lavorare che non dovevamo pagare le tasse che semplicemente eravamo felici e non sapevamo sono i colori che il bambino non ha occhi per vedere le forme ma avrà occhi per percepire i colori infatti l'occhio finisce di essere formato molto dopo che il bambino nasce ma per questo voi sapete meglio di me il bambino riconosce i genitori per l'odore per i profumi o per l'odore del padre l'odore della madre dicono che un bambino neonato ha l'olfatto quasi come un cane e quindi riesce a individuare il nono la nonna tutti dall'odore l'infermiere il dottore tutto dall'odore e per quello sorride ma diciamo l'occhio l'occhio vede tutto un po' macchiato perché l'occhio non ha la forma ancora rotondina perfetta per provocare le immagini ma percepisce i colori sono colori estremamente affettivi questi colori erano i colori che predominavano nelle chiese erano questi i colori se noi prendiamo le chiese antiche che hanno i mosaici che non sono stati cambiati sono i colori dorati ci sono anche dei blu o dei verdi ma il colore predominante era il colore dorato i grandi rossi perché questo ci dà veramente un'altra dimensione dello spazio il senso generale di questa di questa dimensione o di questo movimento è quello di aspirare a una unità interiore a ricoverare quell'unità perduta che noi possiamo trovare nella mistica ma quando parlo di mistica non vi spaventate perché di solito quando noi parliamo di mistica sembra che noi stiamo parlando di Santa Catarina di Siena Santa Teresa Davila e dice sì quella è per quelli no la mistica cristiana è per tutti tutti noi siamo chiamati a fare l'esperienza di trovare noi stessi con Dio dentro di noi perché di solito non associamo mistica con i doni straordinari della mistica ma quello succede con uno o due e magari con una funzione specifica e non dobbiamo io penso che non dobbiamo neanche aspirare a certe cose io ho conosciuto persone con doni straordinari che dicono guarda io felicemente ti darò questo dono se io potessi perché sono molto più felici senza che con sapere vedere quello che gli altri non vedono o sentire quello che non è un privilegio è una missione è una missione dura difficile quindi la mistica non togliamo dalla nostra testa quello la mistica è la capacità di trovare il Signore dentro di me stesso nell'unità di me con me stesso e con Lui quello succede con noi durante la comunione eucaristica quello succede noi facciamo unioni mistiche se vogliamo con molta con molta ci saranno giorni in cui sentiremo una colonna sonora ma la maggioranza delle volte le esperienze mistiche succedono senza effetti speciali e senza colonna sonora semplicemente con un coro che canta stonato semplicemente con no ma il Signore sta lì ho usato una immagine provocatoria di un'altra religione perché questa immagine riesce a dire esattamente quello unione una unione mistica di uno con se stesso e con gli buddisti non è che credono non credono come noi e qualcuno dice che i buddisti sono atei perché non hanno una concessione di Dio non è vero è che la divinità è così così santa così alta che loro non danno nome è al di là al di sopra di qualsiasi vocabulario che non lascia di essere anche molto interessanti e quindi il senso è quello in queste constellazioni simboliche noi possiamo entrare in noi stessi per l'unione mistica come abbiamo detto oppure possiamo l'altro il rovescio è anche vero la depressione è un entrare in se stesso la depressione è una regressione la depressione è un ritorno all'interiorità ma è malato e l'incontro mistico è sano la depressione è malata non sto parlando che noi lo facciamo a proposito adesso io mi deprimo perché no ma sono processi anche adesso noi ogni volta capiamo di più che sono possono essere biochimici dentro delle persone che sono portati a un entrare in se stesso entrare in se stesso entrare in se stesso di un modo che non li aiuta se noi pensiamo i sintomi i primi sintomi sono proprio sintomi di uno che ha paura di uscire la sindomi di panico paura di uscire di casa paura di uscire dall'estanza dal letto paura di uscire dal letto e quindi è un bambino che sta tornando al grembo materno è un grido di soccorso è il corpo e la psiche che sta cercando di ricostituirsi ma può essere è una malattia è una malattia che va curata ma non è e quindi noi possiamo avere cose molto simili nella vita spirituale dentro delle stesse constellazioni ma con significati completamente distinti il grande pericolo della in questa constellazione il pericolo risiede proprio nella perdita del senso dell'azione della lotta perché il grembo materno è molto confortevole il grembo materno è protetto e quindi come componenti è importante ma non può non può essere preso preso da solo l'inerzia abbiamo bisogno dell'altra componente il suo opposto il suo opposto è la posizione retta l'alzarsi e l'altro componente così come il primo è molto femminile il secondo è molto maschile uno è molto legato al riposo alla rigenerazione alla vita nel suo crescere nel suo nutrirsi stare in piedi vuole dire lottare vuole dire ricercare il cibo è legato come noi possiamo ricordare alle prime esperienze che il bambino fa fuori dal grembo materno fuori dal grembo materno la grande festa sarà quando il bambino si alza da solo perché questo vuole dire tanto per la nostra razza umana perché un bambino che non si alza è una tragedia un bambino che non riesce a avere le schiena vertebrali i muscoli delle gambe sufficientemente forti per mantenere il suo peso e un cervello agilissimo per fare il continuo controllo dei pesi che noi chiamiamo equilibrio per mantenersi in piedi è una tragedia perché avrà una vita molto limitata per quello noi facciamo tanta festa quando un bambino si alza perché alzarsi vuole dire anche dal punto di vista simbolico passare dalla situazione degli animali che camminano con quattro zampe a camminare con due zampe e quindi è una conquista l'alzarsi sarà sempre legato a una superazione e bambino noi sappiamo che per alzarsi deve allenarsi tanto perché i muscoli si rafforzano le ossa si fortificano per rendere possibile se lui si alza molto presto è forzato ad alzarsi può avere dei problemi per tutta la vita perché se i muscoli non sono pronti o la ossatura non è pronta può provocare un disastro e quindi è un processo di elevazione l'elevazione sta legata alla ricerca della luce perché tutto ciò che è buono è sopra è la nostra esperienza da bambini perché perché ci piaceva tanto andare in braccio ai nostri genitori ai noni perché le cose buone sono sopra perché nascondono dai bambini tutte quelle cose che lui può toccare scoprire mangiare sono tutto sopra il tavolo e lui è sotto il tavolo l'unico modo di raggiungere le cose è salire e lui ha bisogno di essere alzato e quindi l'altra esperienza che ci ha colpito sempre è quella di essere preso in braccio da qualcuno e alzato in alto queste esperienze sono esperienze che possono essere state positive o negative se sono positivi ci faranno sempre desiderare salire sulle montagne se sono negativi ci faranno avere paura delle altezze ma rimarranno sempre marcati se qualcuno ci ha alzato e ci ha lasciato cadere ci può venire la paura può venirci la insicurezza ma saranno comunque marcanti queste esperienze le altezze o salire è molto legato a tutto un quadro anche morale non moralistico ma morale nel senso che le cose buone sono sopra quando noi parliamo che una persona è una persona brava è una persona di ideali alti di alti ideali possiamo dire una persona di basso profilo o di un alto profilo sono dei valori bassi o degli valori alti ma possiamo parlare anche di rettitudini quando parliamo di rettitudini stiamo parlando di una linea verticale che mi fa guardare in alto e pensare questa è una persona una persona retta avevamo dei giochi che insegnavano questo di modo simbolico penso che anche voi avete avuto questi giochi di salire su un un mastro con sopra si mettevano dei dolci o si mettevano dei soldi e dopo c'era questo mastro in cui si doveva salire era una competizione si metteva anche tanto grasso per difficoltare ancora questa salita solo i bravi riuscivano a raggiungere quello punto queste immagini vengono dal Giappone figuriamoci come universale questa concessione l'esperienza della verticalità e del movimento verticale dell'ascensione è legata anche a quello asse invisibile che unisce il cielo e la terra che noi chiamiamo axis mundi axis mundi radici del mondo oppure asse del mondo e quindi salire vuole dire arrivare in cielo quindi gli archetipi sono questa strana congiunzione tra queste memorie che noi portiamo dentro di noi dentro del nostro corpo con processi razionali processi di associazioni culturali che lavorano su quelle esperienze dando origini alle nostre leggende alle storie di famiglie a quelle cose che i nostri bisnoni raccontavano ai nostri noni nelle note stellate chi ha avuto una nonna che raccontava storie alzi la mano vedete pochi no pochi veramente pochi e penso che adesso diventa ogni volta a ogni volta peggio purtroppo perché abbiamo perso il senso guaritori delle storie le storie avevano e hanno un potere di guarire ferite una bella storia guarisce una ferita perché i bambini si piacciono tanto di guardare le stesse cartone animato perché quello li fa bene loro non sanno dire perché ma quello li fa bene perché il brutto anatrochio alla fine diventerà un cigno e quella e quello guarisce la ferita perché tutti i bambini si sentono inferiore in certo senso chi ha scritto quello lo ha scritto con proposito i miti greci adesso ci sono dei studi interessanti su questo i miti greci che sono diventati dopo teatro sono stati scritti e dopo diventati teatri proprio per aiutare le persone a guarire le sue ferite a capire i suoi drammi perché guardando all'esterno riescono a riconoscere i suoi drammi interni ma riescono a capire molto di più che si fosse da un'estriccia cervelli di qualcuno che o li fa quell'ipinosia e scoprire i suoi problemi perché i nostri problemi più grossi pensate i vostri problemi più grossi quelli che non avete mai parlato a nessuno non lo avete parlato mai a nessuno perché non ci sono parole per dirlo perché sono esperienze così complesse così complicate che non basta dire sono stato abusato non dici tutto non dici tutti i dettagli dell'esperienza l'esperienza è molto più complessa tramite il simbolo è possibile tramite la storia è possibile grazie a queste storie i nostri antenati si equilibravano con le sue emozioni perché implicavano sempre perché tutte queste storie giravano sempre a livello a livello di queste constellazioni io mi ricordo di una storia che la mia stiamo per finire che la mia nonna la mia madre raccontava a noi perché la sua madre raccontava a lei perché la sua madre aveva sentito di un'altra nonna era di nonna in nonna fino ad arrivare a noi la storia era una storia banale ma che si ripeteva vi racconto e dopo prendiamo le nostre conclusioni lei diceva che questa antenata aveva ricevuto una visita a casa di una signora che aveva un bambino piccolo e avevano messo le cose al tavolo come si faceva per una merenda nel pomeriggio e questa donna mangiava le cose e quelle cose e il bambino alzava la mano per prendere le torte i biscotti e la madre non li dava e alla fine la nonna ha detto alla donna ma tizia dai dai un pezzettino al bambino e lei dice no no non ti preoccupare con madre perché uscirà nel latte quello che mangio io uscirà per lui nel latte lei mangiava 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 ma al bambino niente quello veramente ha ha provocato un po' la 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 nona nel senso ma la storia è stata conservata perché è stata conservata perché è vera perché è vera indietro a quella cosa un po' ridicola di una donna che magari era troppo egoista e ha scelto una una scusa o non sappiamo quello che la madre dà dopo altre filosofie io l'ho conservata senza capire molto l'ho conservata ma dopo quando ho cominciato a vedere queste cose ho pensato ma perché quattro generazioni hanno raccontato la stessa storia è perché quello che una madre dà al suo figlio è il risultato da quello che lei si nutrisce questo è ovvio dal punto di vista del latte materno ma è ovvio anche per tutto l'altro quello che quello che i nostri genitori ci hanno dato è stato quello che loro hanno vissuto il latte che ci hanno dato è il latte della sua simbiose della sua della sua sintesi e è quello che succede con ciascuno di noi noi ciò che noi facciamo è il risultato di tutto quello che noi vediamo tutti sentiamo capiamo proviamo per quello questa lezione di oggi entrerà a far parte del latte che voi darete ai vostri studenti ai vostri figli ai vostri catechizandi per oggi noi finiamo grazie